Dopo aver benedetto i giovani della via Crucis, della GMG di Cracovia, nella spinata di Buonie, Papa Francesco è tornato alla sua residenza in Arcir Scovado e poco dopo si è affacciato ancora una volta dalla finestra che dà su via Franciscanska. Ai tanti giovani presenti, molti anche i malati, senza tetto e i disabili, ha raccontato il suo venerdì nel dolore, dai bambini dell'ospedale pediatrico ad Auschwitz e si è chiesto, riferendosi al campo di sterminio, come noi uomini, creati a somiglianza di Dio, siamo capaci di fare queste cose. Una crudeltà, ha aggiunto il pontefice, che non è finita. Anche oggi si tortura la gente, tanti prigionieri sono torturati o nelle carceri sovraffollati dove uomini e donne vivono come animali. Sì, ad Auschwitz abbiamo visto la crudeltà di 70 anni fa, come morivano fucilati o impiccati o col gas, ma oggi in tanti posti del mondo dove c'è guerra succede lo stesso. Ed ha concluso il suo saluto a braccio ricordando che Gesù è venuto per portare sulle spalle questa realtà e ci chiede di pregare. Preghiamo per tutti i Gesù che oggi sono nel mondo, gli affamati, gli assetati, gli ammalati, che sono da soli, quelli che sentono il peso di tanti dubbi e tante colpe.